Dopo aver conseguito il diploma magistrale nel 1958, nel 1964 si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, debuttando nel 1965, al Teatro Palazzo Durini di Milano con Giovanni Poli, maestro della Commedia dell'Arte. Nel 1978 l'incontro con Tony Cucchiara e il Teatro Stabile di Catania danno la svolta alla sua carriera, portandone in risalto le qualità canore. Da allora ad oggi, dopo un lungo percorso professionale presso i più importanti teatri stabili italiani, recita il Teatro Stabile di Catania, dove insegna anche edizione e recitazione. Nel corso della sua carriera è stata inoltre diretta da grandi registi come Orazio Costa Giovangigli, Giorgio Streller, Mauro Bolognini, Giancarlo Cobelli, Massimi Castri, Lamberto Pugelli, Roberto Guicciardini, Filippo Crivelli, Armando Pugliese, Luis Basquale e Turi Ferro. Con cui ha condiviso la scena da coprotagonista.